Vuoi trasformare la tua vita sentimentale senza alcuno sforzo? Teoricamente è possibile, praticamente anche, e ti sto per spiegare come. Se non sai chi sono, sono Federico Picchianti, l'esperto numero uno in Italia in relazioni sentimentali. Faccio questo da oltre sei anni, ho più di mezzo milione di followers da tutti i vari social media e sono il fondatore della startup e club riservato atta al miglioramento e alla trasformazione sentimentale femminile. Sono laureato in scienze educazione della formazione e il mio obiettivo è semplicemente trasformare la tua vita sentimentale per sempre. Ora, vediamo di che cosa sto parlando. Ho preso in esame un messaggio che mi ha lasciato una ragazza nel club riservato, quindi appunto la mia startup e l'ambiente sano e salvo dove puoi trasformarti sentimentalmente e vedremo di che cosa sta parlando. Questa ragazza ti aiuterà a capire come puoi utilizzare tu stessa, anche in base a quello che io risponderò, la riprogrammazione mentale per trasformare senza sforzi la tua vita sentimentale. Quindi stai connessa perché entriamo nel vivo. Allora, questa ragazza dice, ciao Federico, che ti devo dire? Sono sbalordita perché sta andando tutto come neanche nei miei sogni più imprevedibili. La riprogrammazione iniziale è stata una delle cose più dolorose di sempre. Sinceramente ho odiato ogni secondo per quel dolore quasi fisico che provavo, per quella quasi violenza mentale che mi stavo imponendo. Allora, parlando di riprogrammazione mentale, il problema è che quando tu accetti delle informazioni, quindi lasci che queste informazioni proprio distruggano tra virgolette il tuo subconscio, lo ricreino proprio, quindi lo riprogrammino, quello che accade è che io sono, non so, mi sembra che questa sia una recensione, vediamo un po' la domanda o quello che sta dicendo. Troverai sempre Fasi della tua vita dove se tu vuoi fare il level up e devi trasformare, devi letteralmente spellare e rimettere un'altra pelle addosso, oppure svestire e rivestirti, letteralmente con altri vestiti. Questo è quello che succede quando tu ricrei o riproduci letteralmente, scusami, gli ricrei letteralmente i tuoi modi di pensare, i tuoi modelli di pensiero, eccetera, e il problema è che devi, per sostituire quelli che ci sono adesso con quelli nuovi che vuoi, li devi sradicare a quelli vecchi, e quindi soffri, ok? Io stesso soffro moltissimo la riprogrammazione mentale, perché sì è facile, ok? Ascolti i contenuti, va bene, poi applichi le cose in modo quasi indiretto, non te ne accorgi, però la soffro perché anch'io ho, tra virgolette, necessità di sradicare le mie credenze limitanti nel business per sostituirle con quelle funzionanti e per quelli che sono gli obiettivi che voglio raggiungere, e ti garantisco che non è per niente piacevole. Per quanto riguarda la mia vita sentimentale, che è stata, tra virgolette, risolta ed è risoluta adesso, mi manca, e l'ho fatto anche con la parte del fitness, quindi con la parte di salute, sradicare quelle che sono le mie credenze completamente sbagliate, e l'ho fatto nel business e nella salute, è assurdo, e farlo fa male, ok? Quindi questo è vero, questo mi tenendo alto. Dice è stata una botta in testa e una ribaltata di anima epica, fact sento che inizio ad essere più presente su me stessa, sento che le reazioni a situazioni che prima mi avrebbero messo in difficoltà sono più immediate, e il bello è che se penso alle cose dette e alle decisioni prese, dico che era la cosa giusta al momento giusto. A volte mi stupisco di me stessa, per cosa sono diventata in poco tempo, e sta scrivendo quella P.A.S. sensibile emotiva, che poco tempo fa ti poneva i suoi mille timori. Eccomi qua, con una lucidità in testa che mi aveva avuto prima, come faccio a ringraziarti? Niente, semplicemente, la tua recensione va benissimo, anzi, sicuramente avresti fatto lo stesso. La magia è che poi tutto si è sbloccato, ho fatto mio sistema messaggio, e riesco a rimodularli in base alle mie esigenze. Seguitrice seriale è ricuscita sul mio modo di essere, quindi molto credibile, il rosso, fact, ogni oggetto, oggi l'oggetto del mio desiderio si è spinto a invitarmi in vacanza da sogno, stiamo facendo XY, ok, oscuro. L'ho fatto impegnare, push-pull, validazione, no contact, tutto il pacchetto, ed era partita come una bibbia, quindi era dura, il tutto con un controllo quasi alieno per me, che dire? Questa sì che è tanta roba, un sogno è diventato realtà, le persone che aiutano le realità dei sogni, tu sono persone speciali, grazie, grazie a te. Però tieni sempre in considerazione una sola cosa, sono contento del risultato che ho ottenuto, sono strafiero, sicuramente hai fatto un ottimo lavoro e stai continuando a farlo. Nel momento in cui tu hai acquisito un buon momentum, cioè adesso, gioco di parole permettendo, quindi quando le cose stanno iniziando a migliorare, è il momento in cui ti viene voglia di sciacquare, cioè tipo, ah ok apposto. Ecco, quello è il momento sbagliato, nel momento in cui si risolve qualcosa, quello è il momento in cui tu vuoi ricalcare, calcare ancora di più per confermare quelle informazioni al tuo subconscio, e quindi lasciarle marcate del tutto. Quando utilizzi i miei videocorsi, quando utilizzi la riprogrammazione mentale, inizi a notare i primi risultati, è il momento, come viene anche a me nel business, ripeto, io mi stai programmando per apprendere cose di scrittura persuasiva, advertising, pubblicitaria, a me piace molto la pubblicità, quindi proprio la scienza che c'è da pubblicità, ti viene voglia di scialacquare, lasciarti andare, e vabbè ok, ho risolto a posto, non è così, noterai il drawdown, cioè il drawdown è una tua vita sentimentale, è il momento in cui tu praticamente vai a, come dire, perdere i risultati, o avrai comunque un level down, quindi un ritorno indietro dei risultati, che è inevitabilmente previsto, e quindi ci sarà inevitabilmente, a causa della statistica, quindi il fatto che ci saranno eventi magari che non andranno proprio benissimo, dei down emotivi, o semplicemente del fatto che le informazioni sono ancora in fase di apprendimento, e quindi di ricalco nel tuo subconscio, e quindi dimenticherai alcune cose, alcune cose non saranno bene specifiche nella tua testa, è una cosa normale, quello che conta è che continui, tra virgolette, a ricalcare con quelle informazioni, infatti, per esempio io l'utilizzo anche con i libri, in quanto ci sono delle informazioni sull'advertising, per esempio, che io non trovo online, troppo, gli italiani sono bravi a questo, e le sto cercando nella mia lingua originale, che è l'italiano, quindi non in inglese, e purtroppo, per fortuna, devo utilizzare i libri per riprogrammarmi mentalmente, pochi video e corsi, perché c'è poco, però la riprogrammazione mentale vera, e quindi fatta proprio bene, avviene quando tu vai a, praticamente, distruggere proprio, tra virgolette, i sensi, con l'udito e il video, quindi sono i due principali, poi c'è anche la lettura, ma l'udito e l'audio sono quelli principali, quindi ottimo, sono contento per te della tua review, della tua recensione, sicuramente la sponsorizzeremo, e la spammeremo, per fare pubblicità, e prendere più persone possibili nel club, tra l'altro, in futuro ci saranno, delle possibilità per voi, che state nel club riservato, di portare gente nel club riservato, ovviamente con dei ritorni, chiaro, quindi stay tuned, state nel club, perché questa cosa, la riserveremo a chi sta già nel club riservato, tutto in virtù di espandere, in modo quasi spasmodico, e perenne, la parola, e portare avanti il passaparola, perché le donne, e quindi tu, ma in realtà, gli esseri umani, quindi qualsiasi uomo, può riprendere in mano la sua vita, almeno riprogrammando il suo subconscio, utilizzando e scegliendo i contenuti giusti, e trasformando così la propria vita sentimentale, io penso che, è giusto che le persone possano fare questo, e semplicemente quello che ho fatto, è un passaparola per me, che sto facendo ancora tuttora, e penso che sia giusto che tu continui a farlo, e continui ad utilizzarlo, o che passi la parola a persone che pensi, che possono ottenere uso, o uso frutto, quando poi ti sentirai completamente off, insomma, avrai le tue ali per spiccare il volo, che già hai sicuramente, otterrai altri risultati, però tieni conto sempre, che nella vita in generale, noterai che riprogrammare la tua mente, è quasi un argomento che ritorna sempre, e dovrai farlo, quindi dovrai riprogrammare la tua mente, in altri contesti di vita, per raggiungere obiettivi sempre più alti, ok? That's it, quindi sono contento per te, bellissima recensione, bella review, vedo che anche sotto le persone hanno commentato, sono contente, tra virgolette, di questo, poi le leggerò, e vi risponderò one on one, e bene, bene, quindi divertiti, fai quello che vuoi, ma tieni sempre in considerazione il drawdown, quindi il ritorno a, magari degli errori, o cose che non andranno proprio come pensi, perché quello è normale, ed è fisiologico, a livello statistico, però sicuramente, questo significa che hai fatto, e hai ottenuto degli ottimi risultati, sono contento, sono veramente contento, quindi divertiti, non fare danni, have fun!